Hai mai sentito parlare degli estrogeni e magari sai che il testosterone può essere convertito in un processo chiamato aromatasi in estrogeni? O magari stai cercando qualcosa per abbassare i livelli di estrogeni? Bene, devi sapere che stando alle ultime informazioni scientifiche c'è un integratore di cui adesso andremo a parlare. Ciao, il mio nome è Eduardo Baldini e sono una delle pochissime persone a parlare di integrazione senza conflitto di interesse. Ciò significa che a differenza della stragrande maggioranza delle persone che segue online su qualsiasi social network non conta. Qui non ci sono affiliazioni, non ci sono riferimenti a nessun brand. Noi quindi a vedere ciò che gli studi ci dicono e lo andiamo ad applicare in modo imparsale nell'integrazione di tutti i giorni. Ora, come dicevo poco fa, il testosterone può essere convertito in estrogeni. E se una persona si fa regolarmente delle analisi del sangue ormonali, cosa di cui abbiamo ampiamente parlato sul canale, sa che è buona cosa andare a controllare i propri livelli di estrogeni. E qua molto spesso c'è un po' di confusione. Nel senso che ci sono persone che pensano che gli estrogeni, siccome sono associati al mondo femminile, negli uomini debbono essere a zero, cosa più sbagliata. Gli estrogeni sono molto importanti anche nell'uomo. Per una questione per esempio anche solo di libido, di erezioni, di sistema immunitario e di salute cardiovascolare, giusto per dirne quattro, chiaramente non ne vogliamo troppi. Quindi non vogliamo i livelli di estrogeni alti. E molto spesso persone che si ritrovano ad avere estrogeni alti sono persone che per esempio fanno utilizzo di steroidi AS e che quindi giustamente potrebbero essere interessate a questo video. Perché? Perché se abbiamo gli estrogeni troppo alti, ci potremmo ritrovare con un eccesso di ritenzione idrica, ci potremmo ritrovare con la ginecomastia, che è questa cosa qua, con una riduzione della libido, con un eccesso di accumulo di grasso, no fertilità, quindi essere infertili e avere di nuovo problemi di erezione. Quindi vogliamo dei livelli giusti di estrogeni, non li vogliamo a zero, ma non li vogliamo neanche troppo alti. Ebbene, come dicevo nell'introduzione, esiste un integratore chiamato DIM, D-I-M, che è un composto che si trova per esempio in verdura come i broccoli, il cavolo e il cavolfiore, e questo video sarà dedicato al DIM. Prima di proseguire, però, annuncio di servizio, è uscito un nuovo aggiornamento proprio su questa tematica, quindi sul DIM, all'interno della mia guida, il mio percorso, chiamalo un po' come vuoi, la rivoluzione sull'integrazione, che ad oggi conta più di 320 pagine di formazione sull'integrazione, senza teoria, dritta al pratico, con gli esempi di stack per ogni singola casistica, per i natural, per i non, per gli uomini, per le donne, per i ventenni, quarantenni, sessantenni, integratori per l'aumento di massa muscolare, per la perdita di grasso, per tutti gli sport, per la salute, salute cardiovascolare, salute del fegato, integratori per dormire, integratori per chi fa i turni, integratori per lo studio, integratori per avere maggiori energie, integratori per la libido, per il testosterone, parliamo di tutto. Quindi ci sono proprio gli esempi, cosa andare a prendere in termini di integrazione, quando andare a prendere, quali sono i migliori dosaggi stando agli studi, e oltre a ciò ti va a fornire una lista in continuo aggiornamento dei migliori composti, che vada ad analizzare in modo imparziale, non come la marmaglia che seguite, che vi parla bene di un composto semplicemente perché il brand li paga lo stipendio, no, in modo imparziale, in modo tale che se vuoi acquistare integratori sicuri e soprattutto efficaci, tu non debba neanche fare questo sforzo. Chiaramente poi tutti i membri hanno il mio supporto e meglio, così ogni domanda ci si toglie e si paga solo una volta e tutti gli aggiornamenti sono gratuiti a vita. Bene, come dicevo, è uscito un aggiornamento su questo e chiaramente nella lista è stato aggiunto anche il DIM. Tutte le informazioni le trovi in descrizione nei commenti. Allora, questo DIM è in grado di tenere sotto controllo, quindi tenere in un buono stato di salute ormonale il nostro corpo, quindi evitare eccessi di estrogeni, ma anche andare ad evitare che si vada a zero. In particolar modo, gli aspetti che ci interessano per come va ad agire sono due. Uno va a bloccare l'aromatasi, quindi la conversione di testosterone in estrogeni. Cavola, era veramente tanto che non parlavo di aromatasi, erano praticamente dai miei video sugli steroidi che avevo fatto nel 2017. E oltre a ciò va a convertire forme più potenti di estrogeni in forme meno potenti di estrogeni. E questo praticamente, queste due azioni vanno a ridurre l'impatto che gli estrogeni hanno sul nostro corpo. Tuttavia, attenzione, io lo ricordo molto spesso, il troppo stroppia. Cosa significa questo? Molto spesso, quando io parlo di integrazione e vado a dare un range che gli studi ci consigliano, ci sono persone che vanno ad abusare, vanno a superare quelle dosi. Bene, questo è un chiaro esempio che non sempre andare a prendere di più ci dà più benefici. Infatti, stando agli studi, cosa sappiamo? Che andare a prendere un dosaggio in eccesso, tutto in una volta, va a dare l'effetto opposto. Quindi va a promuovere l'aromatasi, va a promuovere la conversione, e quindi va a promuovere più elevati livelli di estrogeni. Quindi fate attenzione e segui tutto il video. E se non sei iscritto, magari iscriviti pure, così ti salvi per sempre. Oltre a ciò, oltre agli effetti che abbiamo visto in termini di estrogeni, sembrerebbe anche ad avere degli effetti anti-cancro. Per questo motivo magari hai sentito parlare, ah, mangia i broccoli, mangia il cavolo, perché fa bene alla salute. È anti-cancerogeno, proprio per via del DIM. Attenzione, non c'è da confondere. Però questo integratore, qualora una persona volesse andarselo a cercare in modo autonomo, con l'I3C, indolo 3-carbinolo, o con il solforafano, che è un altro composto che si trova nei broccoli, ma non è il DIM. Quindi fate attenzione, perché ho visto che andando per esempio a cercare DIM su Amazon, compaiono invece queste due cose, anche cercando DIM. Quindi siccome so che alcune persone ci cascherebbero, fate attenzione, non sono le stesse cose. Ora, per quanto riguarda il dosaggio, quello che ad oggi sappiamo, stando agli studi, è che il dosaggio giusto, sicuro, dato che non sembrerebbero esserci effetti collaterali mantenendo i giusti dosaggi, è di 100 mg giornalieri. Poi, ad oggi, se andarlo a prendere a digiuno con un pasto, questo ancora non lo sappiamo, se andare a dividere le dosi o tutte in uno, questo ancora non lo sappiamo, però sappiamo che 100 mg hanno portato, stando agli studi, effetti benefici in termini di abbassamento degli estrogeni. Quindi se una persona ritiene, grazie a delle analisi del sangue, vitalmente, di avere estrogeni alti e volesse vedere come andagli ad abbassare, questo è un integratore da andare a valutare. Io ricordo che all'interno della rivoluzione sull'integrazione, è uscito questo nuovo aggiornamento, chiaramente gratuito per tutti i membri, così come tutti gli aggiornamenti, per chi fosse nuovo e volesse smettere di acquistare la spazzatura che gli influencer promuovono, ho una guida, giù in descrizione e nei commenti, chiamata la rivoluzione sull'integrazione, che ti spiega come andare ad utilizzare ciascun integratore provato scientificamente, i dosaggi, i mix, quindi le combinazioni, per ogni singola casistica, per l'uomo, per la donna, per i natura, per i non, per i ventenni, i quarantenni, i sessantenni, andiamo a parlare di integratori pre-workout, post-workout, intra-workout, aumento di massa muscolare, per tutti gli sport, perdita di grasso, aumento della forza, andiamo a parlare di integratori per lo studio, integratori per avere più energie, integratori per la salute, per il terzosterone, per la libido, per la salute del cuore, letteralmente parliamo di tutto, anche di capelli, di pelle, tutto, oltre a ciò, come dicevo, vado a fornire una lista in continuo aggiornamento dei migliori composti che sono andati ad analizzare, che sono validi e che puoi andare ad acquistare, senza il bisogno di andare a fare ulteriori ricerche, a meno che tu non le voglia andare a fare, e ricordo che ho appena aggiunto anche il DIM, ma chiaramente ci sono tutti i composti divisi per categoria, ed è l'unico posto dove parlo di Marche, oltre a ciò tutti i membri hanno il mio supporto email, così per ogni domanda ci si toglie ogni dubbio, e oltre a ciò ricordo che è anche uscita la possibilità di, uno, farsi analizzare la propria integrazione in toto, grazie al pacchetto Elite, anche di quello ti lascio la pagina di ripresentazione, giù in descrizione, nei commenti, per qualsiasi domanda sui miei percorsi, come funzionassero, se potessero fare per te, puoi scrivere ad Alessandro, il mio assistente, a questo email qua, o a questo numero su app qui, è sempre disponibile per tutte le necessità, e noi come sempre ci vediamo, tutti i giorni all'una, sempre su questo canale, ciao a tutti, peace.